eccoci qui buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati su radio rosso nera mercoledì 24 aprile 2024 e questo è un editoriale in realtà il mio primo editoriale diciamo in singolo qui su radio rosso nera il primo video che faccio completamente da solo dedicato all'attualità l'aumento attuale del milan e quindi proviamo questo esperimento non c'è caffè in radio questa mattina tornerà settimana prossima perché abbiamo ritenuto che non fosse diciamo un momento troppo adatto per chiacchierarsela in tranquillità sull'attualità e in maniera abbastanza leggera bevendosi un caffè ma proviamo a parlare proviamo in questi giorni ognuno a dire un po' la propria su quello che sta accadendo su quello che è accaduto qualche giorno fa con la vittoria dell'inter del derby il sesto derby la vittoria dell'inter del campionato la vittoria dell'inter del ventesimo campionato proprio nel derby in casa del milan quindi proviamo proviamo un attimino ognuno a dire ognuno a dire la propria e speriamo che anche voi lo possiate fare vi stiamo dando tanto spazio sia nei commenti che leggiamo spessissimo sia ultimamente anche anche al telefono quindi durante i talk c'è il telefono un po più aperto che a milan potete chiamare alance potete chiamare insomma cerchiamo di dare tanto spazio a voi e per questo motivo qua vi chiediamo come sempre supporto semplice supporto è gratuito il supporto che potete darci perché vi basta mettere mi piace vi basta cliccare un like quindi pollicione all'insù arriviamo sui mille sarebbe carino fattolo anche per me se siete d'accordo se comunque vi piace questo tipo di format anche da parte mia quindi mille mi piace e li iscrivetevi al canale se vi va il commento insomma le solite cose per supportarci ci mettete un secondo ma fidatevi a noi a noi serve a noi serve tantissimo oggi ho deciso di impostare questo mio diciamo primo episodio non so se ne farò anche altri però comunque con questa sorta di editoriale su tre punti diversi che potete già leggere qui nel qui nel sommario sono passato presente e futuro perché per quanto mi riguarda come sempre questi sono un po i temi che dobbiamo trattare bisogna guardare al futuro ma bisogna capire cosa sta accadendo nel presente capire soprattutto quello che sta accadendo nel presente da dove è partito da da dove sono iniziate certe cose come si è arrivati alla situazione in cui siamo attualmente no il capitolo passato che il primo che che affrontiamo quest'oggi l'ho rinominato fazioni e polvere sotto il tappeto per due motivi principali quello delle fazioni è credo la la componente alla caratteristica che mi dispiace più del milan degli ultimi anni sia del milan con 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 eliot con gazzidis e maldini sia del milan attuale eh con con gianri cardinale con furlani ibraimovic pioli eccetera 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 perché c'è una caratteristica comune che è stata eh eliminata nascosta eh evitata solamente nel ventuno ventidue che guarda caso è l'anno in cui il milan vince il campionato contro tutto e contro tutto e tutti e va a prendersi e va a prendersi lo scudetto che appunto quella di tante fazioni interne tante fazioni interne al milan l'obiettivo primario sembra perché poi magari non è così anche se in realtà i fatti ci dimostrano che che un po' così è sembra che che ognuno tiri l'acqua al suo mulino che ognuno voglia far prevalere la sua versione che ognuno lotti o o o lavori o o insomma si muova per il proprio conto e per quella che è la propria idea e per far prevalere la propria idea la propria visione sulle altre visioni e non sto dicendo che è una cosa attuale è nel capitolo anche passato per questo perché non è un problema recente non è una questione recente una questione che c'è già da un po al milan ripeto probabilmente c'è dalla presenza di eliot in poi in alcune versioni più in alcune versioni meno in alcuni periodi più in alcuni periodi meno assolutamente però è innegabile è innegabile che per quanto si si racconti ci si dica che che c'è unità di intenti che si guardi che si guarda tutti verso un unico obiettivo in realtà poi fatti spesso dicono che non è così tante frizioni che ci sono state raccontate certificano quasi che che non è così e quindi è una delle componenti più tristi perché io non sono milanista da tanto tempo perché per fortuna non ho chissà quanti anni no 27 anni però da che ne ho memoria non è mai stato così il milan e milan è stato sempre ben strutturato però ben organizzato con poche teste ma poche teste tutte verso un unico obiettivo e mai verso il proprio personale obiettivo ecco e quindi questa è una delle cose che secondo me vanno eliminate per per il futuro ecco anche qui visione del futuro perché non si fa il bene del milan e si fa il bene di tizio e di caio e questa cosa non c'è probabilmente anzi è così non c'è solo all'interno della società e non c'è stata solo all'interno della società probabilmente c'è stata anzi direi sicuramente anche leggendo i social e avendo contatto quotidiano con i tifosi c'è stata tanto anche tra i tifosi no i pro maldini contro maldini i pioli out e i pioli in i pro furlani contro furlani e i pro invest corp e pro red board insomma invest corp parlo dei tempi in cui il passaggio di proprietà con eliot la primissima voce arrivò arrivò in direzione invest corp no cioè con con la voce che invest corp era interessato al milan e quindi queste fazioni sia interne al milan sia poi riversate anche per tanti motivi a livello comunicativo a livello mediatico tutto tutto il contorno che ne segue anche tra i tifosi per me hanno fatto molto male e continuano a fare male e a questo si aggiunge la la questione della polvere sotto il tappeto perché per diciamo prevalere per mostrarsi migliori per mostrare che la propria fazione fosse meglio rispetto alla fazione avversaria che il pro fosse meglio del contro che il che il pioli in per prendere degli esempi fosse meglio del pioli out e viceversa e viceversa si è andati si è andati a nascondere quelli che quelle che sono state le problematiche del milan passate ma anche ma anche direi presenti e e a volte credo che una una parola in più un mea colpa in più una una missione di responsabilità e colpa in più rispetto a un mettere appunto la polvere sotto al tappeto per sembrare più belli apparire più belli apparire giusti e bravi avrebbe fatto il meglio del milan ecco e e di polvere sotto il tappeto per me ne è stata messa tanta per portare avanti le proprie idee per portare avanti le proprie ideologie le proprie scelte per giustificare tante cose e quindi credo che a livello proprio di passato sia stata una delle delle componenti più queste due componenti che ho evidenziato sono state le due componenti più pericolose per per il milan arriviamo al presente perché tutto quello che abbiamo detto finora ha influito non poco sul presente secondo me ha influito tanto sul presente e che è un presente io ho scritto sufficienza e l'era del massi dai l'era del massi dai perché è quello che è stato raccontato quest'anno un pochino no anche qui per mettere la polvere sotto il tappeto per giustificare le proprie scelte per per mostrarsi migliori di altri non lo so non so i motivi ma sono nati tanti massi dai no siamo fuori dal campionato a novembre perché l'inter è scappata via perché non siamo stati dietro loro ma sì dai ma siamo secondi abbiamo perso un derby 5 a 1 il quinto ma sì dai ma comunque sia lì in classifica possiamo riprenderlo c'è stato per il quarto anno il problema infortuni ma sì dai ma comunque la rosa la rosa è completa è arrivato jovic in estate non un altro attaccante che poi jovic ha anche fatto il suo per carità ma sì dai ma va bene così dai c'è girù c'è jovic lo può fare abbiamo perso nel giro di pochi anni due centrocampisti con attitudini difensive importantissime come che sia tonali ma sì dai ma abbiamo preso rendersi abbiamo preso l'off to chic siamo a posto e va bene così siamo retrocessi in europa league non abbiamo passato un girone passabilissimo perché è vero che le due squadre sono in semifinale però tu quel girone lo dovevi lo potevi passare ma sì dai ma c'è l'europa league esci con la roma in europa league e quarti ma sì dai ma stavano bene è un cambiato allenatore ci sta ora io credo che il massi dai per quello accaduto qualche giorno fa sia abbastanza evitabile e ve lo evito perché perché farebbe anche ridere probabilmente però tutti questi massi dai a me danno proprio l'idea della sufficienza no mi danno proprio tanto l'idea della sufficienza non voglio dire di mediocrità perché il milan per la squadra che è per quello è quel qualcosa di buono che ha dimostrato quest'anno non è stato mediocre per quanto mi riguarda il milan è secondo in campionato poteva passare il giro nel champions league poteva arrivare in fondo in europa league poteva fare tante cose meglio non le ha fatte però non è mediocre e mia in questo momento su tanti livelli è sufficiente fa il compitino quasi si limita al compitino il massi dai per me il compitino e per me è stato fatto il compitino perché tante cose nel corso della stagione ti hanno dimostrato che avresti potuto fare qualcosa in più che magari senza il quarto anno consecutivo di tragedia infortuni potevi essere più vicino all'inter che magari giocando non tutte le partite alcune partite importanti in maniera un po più diversa un po più compatta un po più difensiva un po più studiata potevi rimanere più aggrappato e magari potevi superare anche il girone e chissà cosa fare in champions league oppure semplicemente potevi andare avanti in europa league quindi a me è questa sufficienza che non piace ed è una sufficienza che è a livello c'è a livello sportivo ma per quanto mi riguarda c'è anche a livello societario cioè una sufficienza nel far sì che le cose accadano senza magari correggere il tiro per puntare più in alto e non sto parlando del mercato è perché comunque questa società questa nuova dirigenza quando è arrivata si è impegnata tanto evidentemente nel mercato facendo tutto assolutamente no e mi sembra chiaro ed evidente quali sono state le lacune del milan quest'anno però comunque è una sufficienza che c'è nelle dichiarazioni che spesso sono in contrasto l'una con l'altra delle non fazioni però delle diverse campane no di cui parlavamo prima a volte si dice che è sufficiente per tornare a questo termine qualificarsi in champions poi invece qualcuno parla di evolvere e di migliorare qualcun altro parla che che si resta così che va bene rimanere così qualcun altro dice di cambiamenti insomma c'è tanta sufficienza in questo momento qua e io ripeto sarò milanista non da troppo tempo perché l'età purtroppo per fortuna mi fa dire che sono milanista da da cinque lustri o poco più però comunque a me questa sufficienza non piace perché il milan è sempre stato altro il milan è sempre stato altro a livello di di ambizione il milan è sempre stato altro a livello di di stile il milan è sempre stato altro in tante 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 cose in cui quest'anno per me è stato poco e e se tanti di noi parlo per me anzi e se io principalmente o tanti comunque delle persone che si sono lamentate lo hanno fatto è perché probabilmente hanno in testa altro per il milan e per un milan che non è più il milan che elliot prende a un passo al fallimento no è un milan diverso questo milan a posto grazie a elliot grazie a pioli grazie al lavoro di maldini massara grazie a tutti i protagonisti di questi anni ma adesso il milan è diverso non è più il milan di del 2018 non è più il milan del 2019 20 cioè un milan che non può essere sufficiente paradossalmente quel milan lì avrebbe pure potuto essere sufficiente per il periodo da cui arrivava no dopo tutti gli anni tremendi che abbiamo passato quel milan lì poteva essere sufficiente poteva quasi permetterselo questo milan qua secondo me deve puntare deve puntare più in alto e su tanti livelli tantissimi livelli e a questo punto ci proiettiamo verso il futuro perché mi sembra chiaro che la stagione finisce qua o meglio o meglio la stagione non finisce qua perché bisogna assicurarsi il secondo posto bisogna provare a non perdere con la juventus nonostante un'emergenza in difesa bisogna puntare a chiudere bene la stagione a superare i 75 punti possibilmente e fare il nostro in questo campionato chiudendo il secondo posto andando a giocare anche alla supercoppa l'anno prossimo e quindi la stagione finisce qua diciamo a livello di obiettivi perché il milan non ha sì vi è rimasto appunto il secondo posto ma è fuori da tutto ha perso lo scudetto ha perso il secondo derby è uscito male dall'europa league è uscito malino dalla champions e quindi ha perso è uscito in coppa italia con l'atalanta ha perso quello che doveva perdere quello che non ha evitato diciamo l'inevitabile quindi bisogna proiettarsi già un pochino al futuro abbiamo letto tanti nomi tanti nomi per il prossimo per la panchina del milan per il prossimo allenatore del milan abbiamo letto tantissimi nomi perché io ho titolato la prova del nove perché probabilmente la scelta dell'allenatore ci darà risposte a tanti quesiti a tanti quesiti ci darà risposte su qual è l'ambizione della proprietà su qual è diciamo il focus della dirigenza se puntare a vincere o continuare ad avere potere e controllo passatemi il termine tanto controllo sulla parte sportiva ci darà risposte su quello che è il potere o anche qui diciamo lo spazio di manovra di Zatan Ibrahimovic ci darà risposte anche sulle competenze magari di Ibra perché se lui è a scegliere l'allenatore capiremo se avrà fatto giusto avrà fatto sbagliato dopo che la stagione sarà iniziata e sarà andata avanti no quindi ci darà tante risposte io personalmente lo sapete ho un nome in testa che credo che sia anche un nome di tanti se non di tutti probabilmente di tutti no però sia il nome di tanti che è quello di Antonio Conte io non diciamo non metto via non oscuro cioè per me non è o Conte o Muerte ok non oscuro la scelta di un Tiago Motta o di allenatori sull'imprinting di Tiago Motta cioè allenatori in rampa di lancio con grandi conoscenze soprattutto del calcio italiano magari che possono fare bene però ripeto il Milan non è più il Milan che deve crescere non è più il Milan di ventenni presi a due spicci che non conosce nessuno che magari per questo motivo possono anche sorprendere che deve fare l'exploit che deve tornare in Champions League questo Milan deve puntare a battere l'Inter a tornare in parità di Scudetti a partecipare competere e possibilmente andare avanti in una Champions che si rivoluziona cioè questo Milan non può prescindere da questa cosa qui cioè questo Milan deve essere questo non è più il Milan che deve crescere non è più il Milan da risanare il Milan è sano e per questo vanno ringraziati tutti i protagonisti che l'hanno portato a essere sano allenatori giocatori dirigenza società tutti tutte le singole persone che hanno riportato il Milan a questo punto vanno ringraziate per questa cosa qui però adesso c'è la prova del 9 cosa vuole fare da grande il Milan perché Milan è diventato grande ok dal nulla è cresciuto ed è arrivato a essere quasi grande vi butto lì un quasi ma il Milan da grande cosa vuole fare vuole tornare a essere il Milan di un tempo purtroppo ormai tanto lontano o vuole rimanere nell'era del massi anzi del massi dai o vuole restare nella sufficienza questo bisogna capire e bisogna scegliere il prossimo allenatore che abbia quella caratteristica lì portare il Milan a vincere tutti ne devono essere convinti tutti ne devono essere consapevoli e tutti ci devono credere se il nome è ve ne butto lì un altro con sei sao che a me personalmente non fa impazzire ma se tutti credono che con sei sao sia un nome giusto allora si vada verso quella strada lì tutti uniti perché la voglia è che il Milan torni a vincere e la diciamo la credenza è quella che con sei sao porti il Milan a vincere io ho fatto un esempio eh non mi auguro non arrivi con sei sao i miei nomi sono altri li avete ben capiti però il mio auguro è quello cioè uscire dall'era per me nell'ultimo anno e mezzo forse due non lo so della sufficienza eliminare tutte le scorie del passato arrotolare questo tappeto e aspirare tutta la polvere che c'è stata sotto assumendosi responsabilità e colpe perché se si sbaglia è normale che ci siano delle colpe ok e da qui mettere un punto tirare una riga cambiare foglio se volete strappando quello precedente e con un bel foglio bianco ripartire puntando a tornare a essere il Milan e uscendo da questa sufficienza che quest'anno l'ha fatta da padrone ovviamente per quanto mi riguarda è la mia è la mia opinione siamo arrivati alla fine di questo editoriale io ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto grazie veramente di cuore e se vi va il like se non l'avete ancora messo il commento la vostra dita roventi come dice il buon Michele Posa nei commenti diteci e ditemi perché leggerò tanto i commenti la vostra e noi ci ritroviamo tra pochissimo in realtà tra qualche ora con mattinomian e poi a ruota tutti gli appuntamenti di oggi io vi saluto vi mando un abbraccio forte e a presto